Quest'anno la Winter School viene fatta all'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo per un motivo che traspare anche dal titolo la medesima, cibo, prevenzione e terapia per una nuova governo del sistema sanitario nazionale, cibo perché in realtà il cibo determina quelli che sono gli stati di salute e entra moltissimo nello stile di vita e nella prevenzione, prevenzione perché se noi preveniamo le malattie le curiamo meno e quindi in qualche modo riusciamo a vivere non solo più a lungo ma anche meglio e terapia perché comunque stanno uscendo nuovissimi farmaci, nuovissime tecnologie che ci permetteranno in futuro di migliorare quelle che sono le nostre pratiche terapeutiche attuali che sono già ad alto livello. Però per fare tutto questo, per permettere che il sistema sia ancora sostenibile dal punto di vista economico dobbiamo probabilmente ripensarlo con nuove forme anche di governance. Credo che sia un tema quanto mai attuale ed è giusto affrontarlo qui in Piemonte, in provincia di Cuneo in questa sede prestigiosa perché diciamo che qui della qualità del cibo, del cibo buono nella qualità della coltivazione nella qualità della trasformazione c'è stato molto lavoro e credo che si stia affermando l'importanza del mangiare bene del mangiare sano rispetto e alla prevenzione quindi in salute, in sanità e in qualità della vita e quindi anche durante il periodo eventualmente di malattia comunque lavorare sulla qualità della vita parte e comunque deve comprendere un rapporto sano col cibo e con tutti i percorsi che portano un prodotto a diventare cibo. Noi abbiamo voluto portare l'accento soprattutto su due grandi questioni. La prima riguarda la qualità intrinseca dei prodotti e delle produzioni. Oggi i modelli di produzione del cibo, i modelli di produzione agricola del cibo risentono di un uso molto alto, a volte anche indiscriminato, di chimica, di conservanti e altri. Quindi questo è uno dei grandi temi perché l'utilizzo diffuso di questi prodotti nella trasformazione dei cibi e nella produzione dei cibi può determinare danni e avviare patologie molto importanti. Io ho fatto riferimento per esempio alla iperraffinazione che viene utilizzata oggi per molte produzioni, ne dico una per tutte le farine, che ha delle conseguenze molto importanti sui fenomeni infiammatori per quanto riguarda le persone. Quindi il tema dei processi produttivi è un tema molto importante quando si parla di cibo e quando si parla di qualità. La seconda cosa molto importante è che, parlando di sanità, parlando del mondo medico-sanitario, io credo che oggi questo mondo, che ha molto a che fare con la salute delle persone, con politiche di prevenzione, debba essere un mondo che deve conoscere di più e deve avere maggiore cultura alimentare, maggiore cultura gastronomica, perché solo attraverso una conoscenza maggiore di questo aspetto è possibile, da un lato, dialogare con i pazienti e dall'altro indicare, non dico tanto di diete, ma stili alimentari che siano coerenti e che rappresentino veramente la qualità delle produzioni. Gli stili di vita sono fondamentali per affrontare quelle che sono le problematiche del rischio di salute in generale e in particolare sul settore cardiovascolare. Stili di vita significa poter aggiungere coerentemente consigli su una sana alimentazione, l'attività fisica e evitare tutte quelle che possono essere gli abusi a rischio per la nostra salute, associandoli sì anche alle prescrizioni farmacologiche, ma fare in modo che prima di tutto i nostri pazienti capiscano che loro hanno in mano la propria salute modificando i propri comportamenti. Penso che non può partire nulla senza l'intervento della farmacia, cioè le attività di comunicazione e di prevenzione devono passare dalla farmacia del territorio, perché è lì dove la gente si rivolge, perché è il primo presidio sanitario del nostro sistema sanitario nazionale e regionale. Quindi facciamone, facciamone sempre di più per vivere in buona salute. L'abbiamo dimostrato, l'abbiamo dimostrato con gli screening contro tumori, come per esempio il tumore del colon retto, l'abbiamo dimostrato in attività di prevenzione contro il fiumo, sull'obesità, insomma investiamo in prevenzione e facciamolo con le farmacie. Oggi l'alimentazione, sappiamo, svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione, ma non basta. Oggi l'alimentazione deve essere inserita nel percorso di cura di tanti ammalati cronici con un significato e un impatto, un'incissività più forte.